No al commissariamento, sì al dialogo. E soprattutto la sfida al governo di ragionare non tanto su un commissariamento sbagliato, ma sui contenuti di Bagnoli. Noi potevamo partire già tanti giorni fa se il governo non si fosse fissato sul commissariamento, quindi possiamo vederci anche domani, non possiamo nemmeno aspettare il 16 maggio. Ci siamo già pronti, Renzi ha già sul tavolo il nostro lavoro, siamo pronti al dialogo. Se per trattativa si intende dialogo, ricerca di un compromesso sul migliore progetto possibile, allora sì, è un dialogo importante.